Fabio Lunghi dice no alla patrimoniale. Prima, afferma, tassiamo i colossi del web. Poi Camera di Commercio presenta i dati sulle compravendite immobiliari, meno 20% nei primi sei mesi dell'anno. Pochi ospiti, molti oneri. Il jet hotel di Gallarate, tra i primi a rispondere presente al bando di ATS, lamenta la scarsa comunicazione e il rischio di danno economico per gli alberghi che accolgono soggetti Covid. Riaprono i negozi di abbigliamento che a Varese scelgono di estendere l'orario fino alle 21 e chiedono al comune più controlli. Acque agitate per i rivenditori all'ingrosso a corto di ordini e di stampelle. Nella pagina sportiva le anticipazioni di Bar Eccellenze di 55 a canestro, dal calcio, i vincoli societari e il ruolo educativo dei patron. Nel basket e il cammino della Robur e Tfides. Buonasera, benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale. Prima di introdurre la patrimoniale si prendano decisioni più coraggiose. Si comincia ad esempio a piantare paletti ben chiari rispetto ai colossi del web, che fanno miliardi ma pagano ben poche tasse. Parla così Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese. Ascoltiamolo. Prima di introdurre la patrimoniale si comincia a tassare adeguatamente i giganti del web. Così Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio Varese, che rispetto alla nuova edizione di un dibattito vecchio come il mondo, regisce con la consueta chiarezza. Ci sono patrimoni generati da decenni di lavoro, fatica e sudore. Troppo facile aggardire da subito quelli e lasciare che gli autentici e globali paperonde-paperoni continuino a godere di pochi oneri e molti onori. Il presidente interviene a margine del tradizionale appuntamento col mondo immobiliare e con l'ultima edizione della rilevazione prezzi. Sul punto gli interessati potranno trovare parecchi dati e approfondimenti sul volume 2020, disponibile in forma cartacea, inviando una mail all'ente di Piazza Montegrappa oppure consultandolo sul sito camerale. In generale, come sottolineato dagli addetti ai lavori, a partire dalle sigle più coinvolte del settore, FIIMA, FIAIP e ANAMA, è logico attendersi l'inevitabile effetto dell'emergenza sanitaria sul numero di compravendite che nei primi sei mesi di quest'anno registrano un calo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019. Quest'ultimo, nell'arco di tutti i suoi 12 mesi, aveva registrato oltre 10.400 transazioni. Più nello specifico, il prezzo al metro quadrato nella nostra provincia rimane stabile, un po' più accentuato nel centro del capoluogo e nella zona dei laghi, circa 3.300 euro, più basso nell'area di buste gallarate, 3.100, ancora più conveniente a Saronno, 3.000 euro circa. Tra le incognite all'orizzonte c'è il destino degli spazi occupati da uffici e negozi. Ai locali rimasti desolatamente vuoti per la cessazione di attività commerciali, è probabile che si aggiunga una precisa scelta economica di gruppi e aziende intenzionati a trasformare in duraturo risparmio la logica dello smart working e che per questo, anche a emergenza rientrata, lasceranno lavorare da casa i propri addetti, tagliando dai costi una parte degli affitti. Sette ospiti in tutto l'albergo. A queste condizioni potremo stare in piedi per ben poco tempo. Parla così il titolare del jet di Gallarate, il primo hotel covid della provincia di Varese che nei fatti sta ospitando dei pazienti. Solo sette ospiti in tutto l'albergo e i conti non tornano. Al jet di Gallarate, il primo covid hotel della provincia di Varese che nei fatti sta ospitando dei pazienti positivi al coronavirus, le aspettative erano altre. Di certo, ci spiega l'amministratore Massimiliano Cavolina, non avevamo ipotizzato di accogliere soltanto sette persone. Con numeri così bassi non riusciamo a coprire nemmeno i costi, neanche usufruendo del contributo concesso da ATS in Subria. Così è infattibile la cosa, perché comunque noi per arrivare a un break even avevamo bisogno di 20 camere, perché comunque uno può pensare che le 85 euro che i vate fanno 93,50 può essere una buona cifra. Sì, lo sarebbe senza tutto quello che c'è dietro, perché con i pasti, le sanificazioni, tutti gli indumenti che abbiamo dovuto comunque acquistare come protezione, eccetera, eccetera, se non passiamo i 20, cioè noi a 20 copriamo le spese, ecco. Il problema, prosegue Cavolina, è la mancanza di comunicazione. In molti ci chiamano per sapere come poter usufruire delle nostre camere e siamo noi a dover spiegare cosa fare e come procedere. Secondo noi manca un po' la comunicazione, perché noi telefonate dai privati che chiedono se c'è ancora posto, oppure come funziona, cosa devono fare, ne riceviamo tante, anche 5-6 chiamate al giorno. E la gente comunque non sa il funzionamento, non sa come deve fare. Perché a Milano le persone dimesse dall'ospedale, se non dispongono degli spazi sufficienti a casa, vengono subito accompagnate nei Covid Hotel e a Varese no? Si domanda Cavolina. Chi esce dall'ospedale in provincia di Milano lo mandano nei Covid Hotel. La TS di Varese non vuole questa cosa perché ha paura di ricadute o meno, però con il rischio poi che la persona che torna a casa all'ospedale impesta la famiglia. A Varese invece la procedura che i pazienti Covid devono seguire sembra essere molto più complessa. Devono rivolgersi al proprio medico di base, il quale prende contatto con il loro comune, che hanno già un modulo dato appunto dall'ATS, e poi a quel punto lì si accorda il comune con l'ATS, manda i moduli qui a noi e poi l'ospite viene. Questo potrebbe essere appunto più snello, come diceva lei, uscendo dall'ospedale, permettere subito al paziente di essere accompagnato in hotel. Anche perché in questo caso qua poi per esempio i sabati e le domeniche sono giornate off, nel senso non si può fare questa parte burocratica, quindi sabati e domeniche la gente non può venire. Voi avete provato a rivolgervi ad ATS sollevando questo problema sia legato all'organizzazione, alla comunicazione, ma anche proprio al sostenimento economico. No, no, certo, loro dicono di pazientare che è solo questione di transizione, ma poi si riempirà. La speranza è che avvenga la veloce. Sì, agli orari flessibili, una titolare di un noto negozio di abbigliamento del centro di Varese raccoglie la sfida e chiede ai suoi colleghi di fare squadra. Elena Colombo è una pioniera del commercio al tempo del Covid. Il suo bel negozio di moda nel centro storico di Varese ha aperto i battenti poco prima del lockdown di marzo. Dopo l'immediata battuta d'arresto ha preso slancio nei mesi seguenti, terminati con la nuova chiusura forzata e sfociati oggi nella sospirata riapertura pre-natalizia. Un lavoro singhiozzante, tutt'altro che facile per chi come lei, donna, mamma, imprenditrice, profonda conoscitrice della moda, dei tessuti, dei tagli più accattivanti, ha investito in un'attività che mette al primo posto l'interazione, il contatto e il rapporto diretto col cliente. Il mio negozio si struttura molto su una vendita di contatto, quindi il bello di avere un negozio è il parlare con il cliente, poter interagire. Date le circostanze Elena ha saputo fare di necessità virtù e nei periodi di lockdown ha lavorato bene sui social, facendo da testimonial della propria attività ed elaborando una serie di opportunità per quest'ulteriore nuovo inizio, sconti, promozioni, qualità della merce e del servizio. Ora che è tornato in campo ha scelto di raccogliere la sfida dell'apertura flessibile e chiede a colleghi e autorità di fare fronte comune. Ci ritroviamo qui con la nostra nuova apertura e sicuramente dei nuovi orari che cerchiamo di rendere più elastici dopo questo DPCM, quindi con apertura fino alle ore 21, proprio per dare la possibilità ai clienti di avere un orario più spalmato e di poter usufruire anche dei saldi promozionali del Black Friday. Spero molto che altri commercianti della zona di Varese abbiano aderito a questa elasticità di orario in modo da non essere sola nelle ore notturne e spero che il comune possa tutelare noi commercianti con delle pattuglie extra negli orari serali. E così, senza mai perdere il sorriso, Elena è pronta per la volata natalizia. Ma che feste saranno quelle ormai prossime? Sarà un Natale, diciamo, molto coraggioso. Continuiamo a parlare di abbigliamento. Il portavoce delle imprese che si occupa della vendita all'ingrosso di capi di abbigliamento appunto denuncia ai nostri microfoni la grave crisi del settore e chiede aiuto a Regione Lombardia. Abbiamo i magazzini pieni ma siamo a corto di ordini, dice. Quanti di noi fino all'inizio dell'incubo Covid conoscevano i codici Ateco? Oggi, in ambito economico, non si sente altro perché sono quei numeri che fanno la differenza tra chi resta aperto e chi no, tra chi lavora e chi salta un giro. Ne parla a gran voce il settore dell'abbigliamento all'ingrosso. Un buon numero di aziende lombarde che hanno scritto a Regione Lombardia invocato un'audizione alla Commissione Attività Produttive per chiedere contributi o sgravi fiscali. Il comparto della moda a Milano e Lombardia è una cosa molto importante. Siamo più di 500 aziende in Lombardia con un indotto incalcolabile e siccome la moda a livello nazionale come PIL porta un grosso risultato per la nazione Italia chiediamo un occhio di attenzione anche al nostro codice Ateco perché anche noi stiamo soffrendo una crisi considerando che il nostro prodotto finale, l'abbigliamento perché di questo si tratta, è finita la stagione il valore è dimezzato. In buona sostanza quest'anno sarà sicuramente un anno dove tutti quelli che hanno questa attività all'ingrosso devono mettere dentro dei quattrini per rimanere a galla. I grossisti si trovano a vivere il secondo incubo anche perché la moda cambia ad ogni stagione. Ciò che è nuovo adesso resterà in magazzino l'anno prossimo. Il rischio è di continuare a investire senza introiti anche perché i negozi, che grazie alla zona arancione hanno potuto rieprire battenti, non sembrano intenzionati a caricarsi di ulteriori costi e quindi rinunciano all'acquisto di nuova merce. I nostri ingrossi in Lombardia ieri hanno lavorato pochissimo e tanti clienti che hanno chiamato hanno detto guarda voglio finire la stagione così perché stiamo soffrendo e vogliamo non caricarci di altri problemi. Perciò siamo qui. I commercianti scendono invece in piazza a Somma Lombardo per chiedere all'amministrazione comunale di sospendere i cantieri che stanno stravolgendo la viabilità del centro e la risposta del sindaco Bellaria arriva subito. Ascoltiamoli. Noi apriamo i negozi dopo settimane di chiusura forzata e l'amministrazione comunale chiude le strade. Una vera e propria presa in giro. Sono arrabbiati i commercianti di Somma Lombardo che chiedono al sindaco Bellaria di riaprire subito le vie del centro e di sospendere quei cantieri che avviati proprio ieri, giorno di riapertura per molte attività dopo il passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione, stanno stravolgendo la viabilità della città rendendo difficile ogni spostamento. Un mese di chiusura abbiamo riaperto fiduciosi che magari potevamo non voglio dire recuperare ma perlomeno tornare a fare qualche vendita e abbiamo trovato questa sgredita e amara sorpresa della chiusura della via più importante di Somma Lombardo ma non solo di quella. Altre vie collaterali tipo via Garibaldi, via Mameli sono state chiuse, transennate. Di conseguenza c'è un carico di traffico molto importante su altre vie e rende praticamente ingestibile la circolazione a Somma Lombardo. Ma proprio al 30 di novembre dovevano far partire questi lavori. Anche consegnare le pizze diventa un incubo in questa situazione. È un problema grosso perché noi come Pizzarico Vesuvio abbiamo un giro molto vasto e per andare via Briando o andare a Vergiato o andare a Gola Sec con Arezzo e con Magna Belli devo fare un giro molto più ampio e le pizze arriveranno molto più fredde. Non è un bel servizio che diamo ai nostri clienti in questo modo. Io sono di Somma conosco le stradine secondarie e ci posso arrivare ma i clienti come i miei come quelli dei miei colleghi che vengono da fuori Somma non ci arrivano più con tutta questa gincana da fare. Chiediamo almeno di sospendere i cantieri e di farci lavorare fino a Natale dicono i commercianti. Mettere il porpido al mese di dicembre mi sembra un lavoro assurdo. Magari fare un'asfaltatura temporanea così passavamo il Natale lavorando tutti in maniera tale che dopo si veniva preventivato dopo facendo magari i lavori in un secondo momento in un periodo che non quello natalizio dove è l'unica possibilità per poter guadagnare qualcosa. A sostenere i negozianti Ascom Gallarate Malpensa vogliamo confrontarci con il sindaco e siamo certi che troveremo un accordo afferma il direttore Gianfranco Ferrario. Conosco bene l'amministrazione e voglio assolutamente anche su questo segnalare che per me bisogna andare spalla a spalla con l'amministrazione e uscirne fuori. Chiaramente è il mio appello che lancio anche al sindaco Bellaria di aiutarci in questo momento e di essere sensibili ai nostri problemi. Immediata la risposta del sindaco Stefano Bellaria che precisa il disagio per chi arriva da altri comuni non riguarda i negozi. Ricordiamo infatti che anche in zona arancione non si può uscire dal proprio comune se non per motivi essenziali. Ad ogni modo l'obiettivo è quello di terminare i lavori entro venerdì. L'obiettivo è quello di terminare i lavori che richiedono la chiusura di uno dei due sensi di marcia del Sempione entro venerdì in modo che se ce lo auguriamo tutti la regione Lombardia piuttosto che il governo dovessero far sì che la nostra regione e quindi anche Somma Lombarda tornino ad essere zona gialla allora da quel punto anche chi non abita a Somma Lombardo potrà recarsi a Somma. Ad oggi non è possibile. chiediamo a tutti i cittadini di collaborare conclude il sindaco per permetterci di rendere Somma non solo più bella ma anche più sicura. Mi spiace per questo piccolo sacrificio questo serve anche a mettere in sicurezza migliorare la viabilità costruire poi anche dei nuovi marciapiedi che consentiranno con maggior sicurezza di poter frequentare tutto il centro cittadino. Svastiche e bestemmie boicottano il dibattito dei Verdi la conferenza online condotta dal consigliere regionale Roberto Cenci e dedicata al tema dei rifiuti è stata sospesa proprio a causa di un blitz degli hacker nazisti. Quali le conseguenze del lockdown per i nostri amici a quattro zampe? Ne parliamo nella nuova puntata di Amico Cane ecco per voi una breve anticipazione. Quali sono le problematiche che ci siamo portati adesso dal primo lockdown? Quali sono le problematiche anche comportamentali nei cani che abbiamo ritrovato? Allora c'è stato un aumento di oltre il 40% di casistiche di cani che si sono presentati nei nostri centri con problemi comportamentali. I principali sono stati sicuramente l'ansia e la separazione cani presi cuccioli cuccioletti durante il lockdown che hanno vissuto chiaramente pochissime esperienze per cui li abbiamo ritrovati cani con delle forti paure sociali delle forti fobie anche ambientali cani che avevano già comportamenti non proprio piacevoli in famiglia che purtroppo si sono acuiti per cui sono aumentate tantissimo anche le casistiche di aggressività del cane rispetto a uno o più membri della famiglia. Quindi questi cani non abbiamo potuto seguirli per tre mesi più o meno quindi tutti questi episodi si sono chiaramente esacerbati e abbiamo ritrovato delle situazioni veramente molto molto complicate. Per la cultura artista a 360 gradi Alberto Stelluti presenta al pubblico il suo libro Albergo a mille stelle Artista performer musicista e ora anche scrittore è fresca di stampa infatti la recente pubblicazione di Ivo Stelluti intitolata Un albergo a mille stelle Eterno innamorato del mondo della natura nelle sue infinite espressioni e di tutto il creato Ivo ha sempre concentrato e comunicato la sua passione per i viaggi attraverso l'arte dai quadri alla musica alla poesia Grazie alla collaborazione nata prima con Arte Varese ho ripreso in mano i miei diari dei viaggi che sono diventati gli episodi settimanali della rubrica Il viaggiatore curioso In seguito grazie allo scrupoloso lavoro dello staff di Aporema Edizioni abbiamo scelto gli iscritti che avessero al loro interno un giusto equilibrio tra azione descrizione e riflessione è nata quindi la raccolta di racconti Un albergo a mille stelle un giorno in Cambogia ho chiesto al mio accompagnatore di farmi visitare oltre alle meraviglie archeologiche di quel luogo anche qualche villaggio per capire un po' come viveva la gente e lui mi ha mostrato le amache legate agli alberi spiegando che i turisti dormono in alberghi a quattro stelle ma per i cambogiani si riserva un albergo a mille stelle indicando il cielo nella musica jazz l'accordo fuori scala si trasforma in uno spunto per iniziare un nuovo fraseggio così nel viaggio l'imprevisto è essenziale è funzionale alla bellezza ciò che non doveva accadere diviene suggerimento letterario proprio perché sta lontano da quella linea che altri avevano già tracciato per noi questo libro è la narrazione della nota di improvvisazione che deve esistere come parte integrante del sentiero il margine di errore il fuori programma quello che non ti aspettavi attraverso le pagine di un albergo a mille stelle Ivo ci accompagna poi a visitare scorci inediti e raggi di meraviglia del Senegal Guatemala India Iran ed ancora Nepal Mozambico e Marocco come tante delle iniziative organizzate da Stelluti anche la pubblicazione ha uno scopo umanitario i diritti d'autore verranno infatti devoluti a Padre John un missionario che opera in Birmania con il quale l'autore collabora da sei anni a tutti una buona serata le previsioni per domani mercoledì molto nuvoloso o coperto con precipitazioni soprattutto al mattino sulla bassa padana all'oltrepo e la Lombardia orientale con acqua mista neve o neve probabilmente fino in pianura sul Varesotto e sull'Ario limite neve verso i 500 metri nel pomeriggio precipitazioni più deboli e sparse temperature massime attorno ai 3-4 gradi Con la prima parte del nostro Tg abbiamo terminato io vi ringrazio per l'attenzione e lascio spazio al collega per la pagina sportiva grazie arrivederci grazie 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 a tutti